Dopo il sequestro effettuato durante le festività natalizie e ad inizio anno di circa 30.000 articoli, la Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino ha continuato l'intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, volte alla tutela del consumatore. Le Fiamme Gialle, infatti, nell'ambito di ispezioni eseguite in sei diversi esercizi commerciali di Fano, hanno sequestrato oltre 3.300 prodotti costituiti da bigiotteria, accessori di moda, articoli per la casa ed anche da mascherine FFP2, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Gli articoli sono stati sequestrati e ritirati dal mercato dalla Guardia di Finanza ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio, per la definizione delle sanzioni amministrative contestate che prevedono pene pecuniarie anche fino a 25.800 euro.